Da soli non si va da nessuna parte, presto ufficializzerò in Consiglio Comunale la mia adesione a sviluppo democratico. Porto davanti il programma con il quale mi sono presentato alle elezioni. Lo dice la sindaco di Gela Domenico Messinese in occasione della presentazione ieri mattina nei locali dell'ex chesetta San Biagio di un nuovo soggetto politico denominato sviluppo democratico progetto comune. Il sindaco dopo essere stato eletto a furor di popolo nel giugno dello scorso anno nelle fila del Movimento 5 Stelle per poi nel mese di dicembre essere stato espulso dal Movimento per avere buttato fuori a sua volta tre assessori grelini ha detto di essere disponibile ad un confronto con tutte le altre forze politiche presenti in città. Gela ha bisogno di nuove prospettive, ha detto Messinese nel corso del suo intervento. L'elemento fondante della democrazia non è la contrapposizione ma la condivisione. Alla presentazione del nuovo soggetto politico che non è né di destra né di sinistra né di centro ha sottolineato Messinese erano presenti tutti i componenti del suo esecutivo ma anche diversi esponenti politici appartenenti alle varie forze politiche del territorio. Soci fondatori del nuovo progetto politico sono proprio il sindaco Domenico Messinese e quattro assessori della sua giunta. Il vice sindaco Simone Siciliano e gli assessori Francesco Salimitro, Flavio Di Francesco e Fabrizio Morello mancano all'appello, gli assessori Licia Bela e Rocco Darma. Presidente è stato eletto il webmaster Giuseppe Ventura, vice presidente Emanuele Buonaventura, moderatore dei lavori, mentre coordinatore è stato nominato Emanuele Ferrara. Fanno parte del direttivo Giussi Callea, Grazia Pizzardi, Salvino Legname, Rita Scicolone e Dino Cani. Alla presentazione di sviluppo democratico ha preso parte ieri anche il segretario locale del Partito Democratico Peppe Di Cristina. Presente è anche il consigliere comunale della lista musumeci Enzo Cascino. Gela, ha detto il vice sindaco Simone Siciliano, si è ritrovata a pianificare il suo futuro senza direttrici. Diventa fondamentale fare rete e puntare sui nostri punti di forza. La prossima tappa di questo progetto, ha detto l'assessore Morello, è la costituzione di un laboratorio di idee dove ognuno può dare il proprio contributo per rilanciare l'azione amministrativa. Abbiamo tante potenzialità, ha detto l'assessore Francesco Salimitro, ma dobbiamo anche fare i conti con una carenza di infrastrutture e con una serie di vincoli che bloccano il nostro sviluppo. Il PRG che abbiamo ereditato è un brutto piano, ma bisogna concludere il nostro iter al più presto. Presente ieri anche il parlamentare regionale del PD, Giuseppe Arancio, il quale ha esultato i cittadini ad essere parte attiva. Hanno preso la parola anche gli imprenditori Davide Melfa e Salvino Legname, il pediatra Antonio Linciani e l'avvocato Maurizio Scicolone.